Un click e deviavano il pagamento di fatture da parte di clienti di varie società ad un conto corrente da loro appositamente aperto. 12 persone sono state denunciate dalla polizia postale al termine di un'indagine sul cybercrime. L'accusa è di accesso abusivo a sistema informativo e frode informatica. Spiavano la posta elettronica delle ditte quando individuavano una transazione commerciale e la deviavano sul loro conto. In questo modo sarebbero finiti nelle mani di una banda di truffatori 155 mila euro che erano stati regolarmente pagati dai clienti ma che non sono mai arrivati alle società. L'operazione Niki, come è stata chiamata l'indagine, è partita dalla denuncia di un'azienda di Treviso. Nello scorso settembre aveva rilevato il sospetto mancato arrivo dei pagamenti da parte di una società indonesiana. Perquisizioni e indagini informatiche hanno portato alle denunce della banda di cyberpirati, tutti cittadini nigeriani, e al sequestro di carte di credito, telefoni cellulari e di 50 mila euro, soldi che sarebbero stati sottratti alle aziende e che stavano per essere riciclati in varie attività.